Ben trovati al Tg Sordi di Lecce 7 E' stato arrestato e ha confessato l'assassino di Eleonora e Daniele Si tratta di Antonio De Marco Studente 21enne di infermieristica Ed ex coinquilino della coppia Il delitto è stato pianificato nei minimi dettagli L'omicida voleva torturare i due ragazzi e poi lasciare un messaggio su un muro Gli investigatori sono arrivati all'assassino della coppia Grazie ai bigliettini persi sul luogo del delitto E ad alcuni filmati di videosorveglianza Ma non è ancora stato chiarito il movente L'ipotesi è che De Marco, solitario e introverso Provasse un forte sentimento di invidia nei confronti della vita felice dei due ragazzi Tamponi a tappeto, per fortuna tutti negativi Tra gli esponenti del centro-destra pugliese e i collaboratori di Raffaele Fitto Dopo che quest'ultimo ha annunciato di essere positivo al Covid-19 L'euro parlamentare è in buone condizioni di salute Sono 35 in tutto i focolai di Covid-19 attivi in Puglia I contagi in provincia di Lecce aumentano con un ritmo lento ma costante I casi positivi ad oggi sono circa 140 Fa un bagno a Sant'Isidoro e trova sul fondale un prezioso reperto archeologico La protagonista è una turista di Bolzano che ha rinvenuto per caso Un bacino in ceramica in vetriata a policroma Risalente al Medioevo Si è conclusa con un pareggio a reti inviolate la partita di debutto in Serie B del Lecce Contro il Pordenone Mister Corini si è detto felice ed orgoglioso della prova dei ragazzi Prossima gara, sabato 3 ottobre con Lascoli Bello Grazie a tutti